Gibellini ha detto che non vende nessuno a gennaio, anche dovessero arrivare a richieste? Fare domande ai Gibellini che non voglio neanche rispondere, non voglio sapere niente, Gibellini può dire quello che vuole, io penso alla squadra, non so, lavora per il Verona, non so neanche, lui parla, vabbè lascia stare.